buongiorno oggi sono felice ma perché perché taglio la spalletta eccola oggi si avvia la spalletta è uno perché noi siamo gente semplice siamo felici perché tagliamo la spalletta la spalletta no attenzione tangentopoli incredibile è sparito è sparito è un mandracca è sparito tutto è sparito tutto tangentopoli ha colpito ancora tutto mandracca è sparito tutto e voi quanto sei contento che vanno più la tangente si ma quando provo che hai fatto nonna maria no sei bella uguale vai ho fatto la torta torta al testo stasera c'è la spalletta e adesso sto a finire il rosario e nel frattempo finisce il rosario perché tante volte si perde c'è quello dell'urde c'è quello dell'urde nemmo detto i tre tre rosari oggi la protezione c'è qua ma nemmeno laura non lo so di goku chi è l'uono 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 chi è l'u